E buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Come andiamo ragazzi? Come andiamo? Il mercato è noioso, è vero il mercato è noioso, ma 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 ci sono come sempre un sacco di cose da sapere. Un sacco di notizie da leggere, opinioni da leggere, commentare, analisi di mercato da fare. Ultimamente mi avete chiesto tutti di analizzare un po' Solana, quindi la andiamo ad analizzare bene insieme, viste anche le notizie positive degli ultimi giorni. Vedo che mi sembra che sia una delle cripto che interessa la maggioranza di voi. Voi ditemelo, non siate timidi, ditemi sempre sempre quello che vi interessa approfondire, perché io vi leggo. Quando riesco cerco di rispondere sempre a tutti, perché in questo periodo la qualità è aumentata, ve l'ho detto. Siamo, come diceva prima qualcuno, pochi ma bullish. Mi piace un sacco questo ambiente che si è creato, quindi ripeto, vi leggo sempre, vi rispondo, quindi datemi feedback, ditemi cosa vi piacerebbe, scusate, vedere trattato e io vi appunto accontenterò. Oggi parleremo di Solana, parleremo dell'opinione di Arthur Hayes, che ragazzi ha fatto uno speech a un evento a Singapore, mi paro, in Sud Corea, non mi ricordo, ma ha fatto uno speech nel quale si è esposto parecchio. Lui ha detto, ragazzi, per me il bull market è già iniziato, nello specifico è iniziato a marzo e tra poco lo andiamo ad analizzare quello che ha detto e cerchiamo di capire il perché. Le sue analisi sono sempre molto interessanti, sapete cosa ne penso sulle previsioni? Qua non si parla infatti di previsioni di prezzo, lui parla semplicemente di una situazione macroeconomica, soprattutto, e la andiamo a percorrere appunto insieme. Secondo lui il mercato se ne accorgerà nei prossimi 6-12 mesi, ma per lui appunto le condizioni per il bull market sono già belle che iniziate. Quindi, ragazzi, prima di andarci ad addentrare in tutte queste belle cose, io vi dico innanzitutto di lasciare un bel like come di rigore, ve l'ho detto il metodo, bisogna prendere l'aria in corsa, bam, buttarsi sul like il più forte possibile. Si dice addirittura che più like lasciate e più il mercato ne risente positivamente. No, scherzi a parte per dire ragazzi, io c'ero. Poi ci guarderemo indietro tra un anno, qualche mese, quello che sarà, e diremo noi c'eravamo. E oggi voglio iniziare con una piccola riflessione e una domanda che voglio fare a voi. Perché oggi, stamattina, ho pubblicato su X questo breve racconto del mio inizio con le cripto. Perché è bello anche guardarsi indietro e pensare a quanta strada si è fatta nel frattempo, quanto abbiamo imparato, quanto siamo migliorati e maturati anche come cripto investitori. E questa appunto è la mia storia in breve, che adesso ve la racconto, ve la leggo. Apriamo così, poi giuro, andiamo al dunque, andiamo a vedere l'analisi di Arthur Ayes, andiamo a parlare di ETF Spot, le novità di Grayscale, le novità di Solana, andiamo a vedere l'analisi di Solana e tutto quanto. Però la prima cosa che ci tengo a fare è proprio questa, perché secondo me sono delle cose importanti anche da capire. E intanto vi chiedo, scrivetemi nei commenti anche voi quando avete iniziato con le cripto e come, cioè un po' l'aneddoto, il vostro inizio con le cripto, come è stato? Io vi racconto il mio, voi ditemelo, mi raccomando, nei commenti che vi leggo. E magari nella prossima live o su X commenterò qualcuno di voi, così ci scherziamo su, ci scambiamo idee e anche storie. Io ho iniziato nel 2017, no? E guardate, avevo trovato uno screenshot, vediamo se ce l'ho ancora qua. Dov'è che è? Dunque, l'avevo messo come risposta a qualcuno di voi, ma dunque, 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 era un bellissimo screenshot di Coinbase del tempo. Vabbè, poi ve lo ritrovo, erano tipo il primo acquisto di Ethereum che non si scorda mai, erano tipo 5,6 Ethereum a 1000 dollari, una cosa del genere. E nel 2017 facendo tutti i tipici errori, no? Perché al tempo già investivo in altro, come appunto stocks, gold e simili banalmente con il mio pack, con parte dello stipendio che metti da parte, risparmi e tutto. E poi ho scoperto le cripto, no? E lì per lì mi ero sentito un genio, perché se dall'altra parte investivo sempre con il risk management del caso, no? Diversificazione, il non sovresporsi mai, portafoglio bilanciato, ribilanciamenti periodici e tutto. E con le cripto tutto questo è saltato, perché ho detto, ma quale risk management qui? Basta comprare altcoin a caso, le altcoin del momento, tra l'altro, perché ogni ciclo ha le sue. Non so chi c'era, ragazzi, nel 2017, vi faccio alcuni nomi, AntShares e Neo, che è diventata Neo, Stratis, Lisk, Walton Chain, bellissimo. Che ricordi, che ricordi? Alcune erano nella top 10, continuavano ad aumentare. Io mi ero fatto il mio file Excel, che si intitolava Road to Crypto Millionaire, che era un file Excel contenente tutte le shitcoin che avevo, quante ne avevo e a che prezzo dovevano arrivare affinché io potessi diventare milionario con quelle shitcoin. Mi fa troppo ridere, perché veramente, purtroppo non ce l'ho più, altrimenti lo incornicerei lì, no? Proprio come memento dei classici errori. Avevano fatto quasi il 100 per durante il bull market, ma chiaramente da bravo gambler, no? Non è che facevi dei ragionamenti di cash out, take profit, in parte, così, cosa ridurre il rischio, perché dicevo, vabbè, ma così non è che ti cambia la vita, ma se facesse da qui un altro 100 per, magari, e allora non vendi niente, e cosa succede? Torna tutto al punto di partenza, se non peggio, no? E questa è stata un po' la grande lezione, perché da lì impari, no? Che anche qui devi ragionare come investitore non gambler, cioè la vera differenza, questo è un messaggio che vorrei che passasse, quello che fa davvero, quest'ultima frase, quello che fa davvero la differenza non è cercare la gemma da 100 per, perché la gemma da 100 per poi non sai quanto metterci, perché comunque in una coin sconosciuta è folle metterci un capitale importante, perché ci sono rischi enormemente maggiori del potenziale profitto, quindi sarebbe veramente follia sovraesporsi. Se non ti sovresponi, anche se appunto ti fa 10 per, è una somma comunque contenuta, che uno dice, vabbè, teniamoli poi, è difficile vendere, diventa veramente difficile da un punto di vista psicologico gestire la situazione, e ci sono appunto tutta una serie poi di implicazioni che 99 su 100 fan sì che si realizza una perdita, anziché un guadagno, credetemi, anche se magari durante la strada ci sono dei pump. E quindi la differenza non è davvero trovare la gemma in questo, cercare la gemma, ma applicare dei solidi principi di risk management e sopravvivere il più possibile, no? Cercare di essere longevi e duraturi, perché se si sopravvive con vari cicli uno dopo l'altro, si riesce davvero a far crescere di più il capitale con una gestione appunto ottimale, no? Con senza sovraesposizione, senza andare a pescare, fare Pokedex di shitcoin e robe del genere, si riesce a performare molto meglio e poi si va a comporre i profitti un po' alla volta, no? E ve lo dico al netto di due anni di bear market, che adesso siamo a settembre 2023, siamo praticamente da due anni in bear market, che ho vissuto in modo completamente diverso dai precedenti, perché anche in questo bear market ci sono state delle batoste, no? Le abbiamo prese in tanti, ma in ogni ciclo, sono le cripto, le cripto è rischio, quindi le batoste ci saranno sempre, ma un conto è se si fa degli all-in, delle sovraesposizioni, che una batosta ti può rovinare completamente. Se invece impari a gestire a monte, no? Quello che è il tuo capitale nelle cripto con i rischi controllati, allora lì veramente puoi prendere delle batoste, fan parte del gioco, ma le incassi, no? Ok? E quindi questo fa davvero la differenza. Questo, scusate il pippone, ma ci tenevo a dirvelo oggi così, giusto per iniziare, secondo me, con il piede giusto. Quindi anche voi, mi raccomando, ditemi qual è stato il vostro inizio, perché sono curioso. Nel frattempo short squeeze in diretta, vedo qualcuno che dice, ma lato pre-section, per andare poi al sodo, non andiamo a preoccuparci troppo per il momento, perché, come vedete, non ci sono variazioni strutturali rispetto alle ultime volte. Quindi possiamo anche soprassedere, no? La parte di analisi di price action, proprio perché, come vedete, abbiamo, ecco, l'unica cosa interessante è che si sta formando veramente una sacca di domanda notevole qua sotto. Guardate, tutte queste shadow, una dopo l'altra, si va a prendere liquidità e poi, per il momento, c'è assorbimento. Quindi la domanda è lì, no? Che sostiene. Sembra voler sostenere e accumulare localmente. Scenario di invalidazione di questa accumulazione, ovviamente, è la chiusura qua sotto alla sacca di domanda. Stiamo a vedere. Comunque abbiamo il nostro supporto principale, sempre tra i 24,4 e i 25,2, che è ciò che deve tenere, perché altrimenti formiamo un costrutto di top. Per il resto non cambia assolutamente nulla. Qui, origine del pump, direi che lo possiamo tranquillamente levare. Adesso il livello che dobbiamo andarci a riprendere per cambiare la situazione, lato daily, è 27,7. Quindi andare a fare un higher high, perlomeno, vedete, tac. Perché quest'ultimo è stato un lower high. I minimi sono tutti, vedete, in struttura di range, quindi siamo macroscopicamente in questo range. All'interno del range, ripeto, siamo in regimi di lower high. Quindi il primo step per cambiare un po' le cose è fare un higher high e chiaramente per ritornare al bull case l'origine del dump deve essere recuperata. Di strada da fare ce ne abbiamo. Però il bear case invece, come vi ho detto, costrutto di top e da range passiamo invece all' lower low e andiamo ad accelerare, ahimè, il ritracciamento ed il ribasso. Come abbiamo visto l'ultima volta, abbiamo buttato lì una possibilità, avevamo visto il gap del CME sui 20k, vi avevo chiesto cosa ne pensavate. Insomma, ho letto varie opinioni, chi pensa che lo andiamo a prendere e chi no. Oggi vi porto un'altra invece analisi, un'altra opinione che è quella di Arthur Hayes. È un'opinione legata non tanto alla price action, cioè non ha niente a che vedere con la price action, questa analisi, ma ha a che vedere con le condizioni macroeconomiche degli Stati Uniti. Vedete, il cofondatore di BitMEX, Arthur Hayes, ormai lo conosciamo perché andiamo sempre a leggere i suoi pappardelloni, ha tenuto uno speech recentemente dove ha detto che il 10 di marzo è iniziato ufficialmente il bull market di Bitcoin, secondo lui. E lui pensa che il mercato reagirà entro 6 barra 12 mesi. E andiamo a vedere il perché. Cioè in realtà ve l'avevo già aperto l'articolo, andiamo a vedere il perché. Allora, intanto questo è zio Arthur, ecco, era la Corea Blockchain Week a Seoul, quindi no, non a Singapore. Le ragioni sono un po' le stesse che aveva detto nelle sue ultime analisi. Principalmente il fatto che le banche sono state salvate dal BTFP, il Bank Term Funding Program, che fondamentalmente diceva bene, voi avete i bond in perdita, sapete che il problema delle banche era proprio l'avere le... aver comprato il debito americano, i bond americani, quando i tassi erano bassi, i tassi sono aumentati, i bond chiaramente sono deprezzati. Quindi se dovessero essere costretti a venderli perché c'è fuga di liquidità, allora non... cioè diventerebbero insolventi perché i bond varrebbero meno della liquidità necessaria ai clienti e quindi appunto si va in insolvenza. E il BTFP praticamente dice, bene, tu usa collaterale quei bond lì, io te li pago come valessero uno, quindi a valore nominale. E quello... chi lo fa ovviamente è il tesoro americano. E quindi va di fatto a coprire le perdite temporanee fino a maturazione di questi bond delle varie banche che ne hanno bisogno. Questa di fatto è un po' un'immissione di liquidità in anticipo, un anticipo di liquidità. Questo è il primo punto. Il secondo punto è il fatto che adesso continueranno a scadere ovviamente questi bond e il governo, visto che il debito americano è in crescita, è sempre più alto, il governo cosa deve fare? Rifinanziare questo debito con i nuovi tassi di interesse. Cioè prima c'era un debito ovviamente tassi di interesse più bassi. Adesso chi acquisterà il debito americano una volta che questi bond scadono e va rinnovato perché il debito non è che diminuisce, anzi aumenta, lo acquista e a scadenza dovrà essere ripagato col 5% di interessi. E quindi cresce la massa di liquidità messa in circolo. Quando i bond vanno a pagare le cedole chiaramente vanno a immettere liquidità all'interno del mercato perché debito che cresce, tassi che crescono significa più liquidità. E secondo lui parte di questa liquidità sempre di più si riverserà poi negli asset a rischio tra cui ovviamente bitcoin. Bitcoin ovviamente ha anche quel suo ruolo diciamo di, come si può definire, di asset che idealmente nasce proprio per evitare questi incastri di inflazione, di stimoli monetari e di crisi bancari e pertanto questo per lui è il quadro che andrà ad alimentare il bull market della prossima fase, il prossimo bull market che secondo lui è già iniziato perché l'innesco ufficiale è stato proprio il lancio del BTFP e la crisi bancaria. Il momento in cui vi ricordate a marzo c'è stata la liquidazione di Silvergate, di Silicon Valley Bank, tutta quella situazione in cui il prezzo di bitcoin se vi ricordate è partito alla grande, eravamo qua vedete, da 20.000 era arrivato a 30.000 nel giro di poche settimane, un più 50% nel giro veramente di poco. Ecco questo per lui è l'inizio per l'appunto del bull market. Sarà vero, non sarà vero, è un'analisi, ve la presento come tale. Non tiene neanche conto tra l'altro del discorso degli ETF spot, non mi pare che ne abbia parlato e qui parla del, dunque dunque dunque, esatto, del fatto che il dollaro ne risente di tutto questo, del discorso del debito e dei bond e questo spinge i trader a considerare gli asset a supply fissa, bitcoin potrebbe assorbire appunto parte di questi capitali anche come diversificazione, 6-12 mesi di timeline affinché il mercato appunto reagisca e inizia a reagire un po' per bene e dice che anche se la Fed dovesse continuare ad aumentare i tassi di interesse o sia quello sia che stampino altra moneta, bitcoin performerebbe comunque bene e lui dice in entrambi gli scenari sia che la Fed aumenti o tagli i tassi siamo in una buona posizione come industria delle cripto per queste appunto motivazioni. Insomma ditemi un po' cosa ne pensate perché lui ha preso una posizione abbastanza forte e da un po' se vi ricordate quando abbiamo esaminato le sue ultime analisi erano abbastanza su questa onda e da un po' che lui pensa così vediamo nel senso io ve la pongo ovviamente sempre come spunto di riflessione mai come oro colato no mi raccomando non facciamo mai l'errore di prendere un'analisi come oro colato e l'unica cosa che si può prendere come oro colato è la struttura attuale di il presente no non si può prevedere il futuro nei mercati possiamo analizzare il presente cosa che facciamo ogni volta nelle nostre live guardando la price action e guardare le condizioni macroeconomiche ovviamente e le analisi altrui secondo me sono dei bei mattoncini quando sono utili per andare a completare no una visione più a 360 gradi dei mercati questo è ciò che vi volevo mostrare appunto per per l'analisi di Arthur vediamo vediamo poi c'è anche l'alvin cioè al di là di queste condizioni macroeconomiche c'è un po' tutto no il il contorno tra cui appunto il discorso degli etf qualcuno di voi prima mi chiedeva nel fuori onda su degli etf su ethereum e quali sottostante future in particolare la scadenza la sono andata a recuperare ve la mostro anche qua durante la registrazione vedete metà ottobre metà ottobre c'è la data di scadenza per la decisione della sec su una tornata di 15 mi pare etf proposti su ethereum per l'appunto e che però hanno sottostante future quindi non mi aspetto appunto che il mercato reagisca in particolar modo benissimo benissimo allora altre cose di cui parlare poi andiamo a vedere un po' un'analisi di solana che secondo me in questo periodo può essere interessante è arrivato un sollecito da parte di grayscale per l'etf bitcoin nei confronti della sec che come sapete ha perso no la grayscale aveva fatto causa alla sec perché la sec aveva negato la conversione del loro trust in un etf spot grayscale si è imbufalita e appunto gli aveva fatto causa ha vinto la causa e adesso appunto la sec deve capire un po' cosa fare quindi se fare appello se concedergli subito la conversione se rimandarla di nuovo richiedere altre informazioni e cose del genere non ha ancora detto nulla e quindi grayscale ha fatto arrivare una lettera ufficiale di esortazione vedete qua possiamo anche andarla a leggere se vi interessa scritta proprio dai legali di grayscale verso la nei confronti della sec dove gli si dice ragazzi sbrigatevi perché avete torto ovviamente spingono nella loro direzione però il succo è muoviamoci non stiamo qua a dormire vediamo un po che succede poi un'altra notizia interessante è che visa che non so se vi ricordate sta studiando è molto web 3 oriented visa sta studiando delle soluzioni nel lato payments che abbiano a che fare soprattutto con le stable coin visa interessata a introdurre in qualche modo nel loro circuito le stable coin e i wallet cripto quindi movimenti on chain su ethereum ha fatto già dei progetti pilota come sapete con l'account abstraction abbiamo parlato varie volte e adesso sta puntando anche su solana anche su solana vuole vedete ha annunciato il la possibilità di fare settlement dei pagamenti quindi anche sulla chain solana utilizzando alcuni alcune infrastrutture intermediarie ma questo diventa molto molto interessante come sappiamo ovviamente solana ha le performance dalla sua che ad ethereum ancora un po mancano è vero ci sono i layer 2 ma ovviamente dipende poi dalla 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 scala di utilizzo no da quanto verrà utilizzata e curioso come appunto come diciamo scelta dopo ethereum è stato preso solana non ad esempio polygon non ad esempio altre altre chain no queste sono informazioni secondo me interessanti da da metabolizzare da sulle quali riflettere allora andiamo a vedere visto che abbiamo parlato di solana un'analisi qui nel frattempo vediamo come chiuderemo oggi insomma ma c'è poco di interessante no siamo sempre lì un'analisi su solana contro bitcoin come mai contro bitcoin che me lo chiedete puntualmente ogni volta come mai guardi grafici delle alt contro bitcoin la ragione è che in questo modo si riesce a filtrare no all'andamento di bitcoin perché altrimenti sono estremamente correlate se bitcoin sale l'alcoin al coin dollaro magari sale però è salita meno di bitcoin è importante secondo me capire questo per capire la loro forza no la loro un po indipendenza anche da bitcoin stesso in particolare su solana secondo me vale la pena concentrare l'attenzione sul time frame settimanale per quale ragione perché arriviamo da un downtrend che dura un anno da un trend sol btc e attenzione che dura un anno e solo negli ultime negli ultimi mesi si è stabilizzato con una struttura di range vedete non è più un downtrend al momento è un range con in realtà un lower high quindi c'è ancora un po di retrogusto ribassista abbiamo equal low e lower high quindi attenzione proprio per questa ragione bisogna ragionare valutare questa costruzione di di prezzo come la direttrice attuale proprio di solana stessa lato price action abbiamo i low che devono tenere altrimenti si prosegue il downtrend e ritorniamo nelle condizioni precedenti forti di un'ulteriore distribuzione quindi quello sarebbe il bear case ovviamente il bull case quale sarebbe la rottura vedete a rialzo del range a 0.0011 se andiamo a fare vedete un equal high già non sarebbe male perché togliamo questo retrogusto ribassista che abbiamo e lo rendiamo un range effettivo no una lateralità effettiva è lateralità lo stesso perché siamo in equal low però il lower high vedete mette un po di pressione lato offerta quindi andare a fare un equal high sarebbe già un piccolo passo avanti ma non sufficiente per valutare un'inversione strutturale l'inversione strutturale si avrebbe se facessimo un higher high scusate confermato chiaramente in seguito da un higher low meglio ancora se retest di questo o di quest'altro livello fam in realtà la conferma finale poi del della ripartenza sarebbe l'assorbimento dell'origine dell'ultimo dump come di rigore no l'ultima leg down molto forte arriva chiaramente dal collasso ftx questa è la leg down di novembre perché sapete quanto erano legati solana e alameda per questa ragione io vi consiglio cioè vi consiglio di dimenticare completamente quello che c'è stato in questo periodo perché il prezzo era fortemente drogato e manipolato quindi non guardiamo i vecchi oltai mai non guarda dimentichiamo cieli facciamo finta che non siano mai esistiti se no si introducono dei bias errati no cercare quelli come riferimenti e guardiamo ecco la struttura attuale quindi abbiamo vedete un rallentamento del downtrend che però non è ancora invertito al fine che si inverta occorre un higher high confermato da higher low e meglio ancora assorbimento dell'origine del dump invalidazione nel caso in cui dovessimo in futuro avere il breakout sarebbe l'assorbimento dell'origine del breakout quindi se ad esempio faccio un'ipotesi random domani parte una candela del genere sarebbe l'assorbimento di questo livello se ad esempio facciamo un po così 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 e poi si parte l'assorbimento di questo livello no bisogna poi contestualizzare nel momento in cui il breakout avverrà non abbiate fretta perché la struttura vedete è ancora di questo tipo questo è un'analisi di price action no quindi non un'analisi da investitore un'analisi della price action come tale quindi può essere interessante per chi opera in modo speculativo per chi osserva le strutture di prezzo il mercato e quant'altro chiaro che se uno opera da investitore non è che deve investire sul lungo termine solo quando c'è il breakout solo quando c'è una certa struttura oddio qualcuno lo fa e magari ci sono delle delle strategie di investimento a lungo termine che puntano ad abbassare il prezzo medio di carico andando ad agire solo su certe strutture ma lungi da me ovviamente dirvi come farlo e quando farlo li deve dipendere da voi io mi limito a fare un'analisi obiettiva no della price action e condividerla con voi fateci qualche ne volete amici miei vi condivido anche un ultimo tool a mio parere molto interessante molto molto interessante e dunque spero che non sia frizzato nel frattempo no ok benissimo ci sarò a pescara grande grande adesso ve la ve la scilla ancora pescara tal proposito e la tokenomics come sta messa quanto ancora c'è da sbloccare guarda ci andiamo a vedere subito token unlocks su token unlocks dov'è qua non world coin e lo dico subito dovremmo essere ormai a buon punto eh se non ricordo male allora 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 sol eccoci dunque in un anno dovrebbe esserci 7.6 per cento di inflazione e come vedi dunque 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 la lock totale circolare max supply non c'è un limite alla max supply non c'era il limite mi ricordavo che mi sembrava che ci fosse che poi questa è l'inflazione dello staking secondo me perché vedi tutto il resto dovrebbe essere cioè sì tutto il resto è già stato sbloccato questo verde se non erro è lo staking è l'inflazione dello staking non considera i burn ma i burn su solana sono presso che minimi al momento mi pare che sia lo staking questo verde correggetemi se sbaglio quindi sia rimasta solo l'inflazione dello staking che all'incirca il 7.6 per cento l'anno e il resto è stato tutto sbloccato e benone 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 direi che qua ci siamo vi volevo dare ecco un ultimo tool a mio parere utile ve l'avevo fatto vedere l'ultima volta la liquidation heat map del cioè fa vedere dove ci sono i livelli di liquidazione e quanto sono intensi è stato aggiunto il pain frame un mese quindi vedete più ampio e vi fa vedere dove ci sono i livelli di prezzo più caldi sui quali ci sono potenziali sacche di liquidità pronte ad essere stoppate squizzate non abbiamo visto a proposito di squeeze la dunque l'open interest e dintorni fatemelo ceccare al volo fatemelo ceccare al volo perché ha visto che si è c'è stato un movimentino un po non su solana è su bitcoin un po bizzarro negli ultimi minuti cioè su movimenti minimi è però ha visto 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 che roba ecco perché c'è stato il movimento ormai ragazzi siamo in come direbbe qualcuno siamo in modalità pvp quindi è veramente una c'è tra dare ora non lo so ma c'è tanta tanto altro da fare di interessante meglio approfondire studiare a tal proposito ragazzi io ve lo ricordo lunedì l'ho detto alla fine mi ero riproposto di dirlo all'inizio niente sono veramente inguaribile su queste cose voi seguite i nostri corsi gratuiti mi raccomando fateli sono ritrovate sulla nostra piattaforma di e learning che è completamente gratuita corsi con i vari argomenti quiz per testare le vostre capacità ogni giovedì un evento di approfondimento formativo domani ce ne sarà uno sulle blockchain modulari veramente interessante a mio parere lunedì parte la nostra promo back to school per avere tante altre opportunità di formazione state sul pezzo e non perdetevela perché non c'è momento migliore per studiare che questa situazione mercato piatto pre alving etf bitcoin la situazione finanziaria globale come abbiamo visto arturai è sempre bullish no quindi mi raccomando vi lascio poi tutti i link in descrizione per iscrivervi gratuitamente a learn tenetevi stretti i vostri cipini che ci potrete fare grandi cose per la vostra formazione amici detto questo io vi saluterei la nostra mezz'oretta link 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 arriva subito arriva anche il link ai cipini ovviamente allora 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 pioggia di cipini dove dove sta dove sta qua e così provo nel frattempo l'export dovrei avere il metodo automatico per andare ad accreditare i cipini dunque 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 eccolo qua il link ozzo vi condivido sia il link per il claim dei 20 cipini di oggi che è questo sia il link per registrarvi tac questo è il link cipinoso sia il link per registrarvi alla nostra piattaforma di e learning tac dove trovate tutti i corsi gratuiti e gli eventi oppala eccoci 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 bene ragazzi detto questo ci possiamo salutare come sempre è stato un piacere passare la serata con voi ci rivediamo come di rigore venerdì ragazzi non si molla noi siamo sempre sul petto ci aggiorniamo su tutto quello che c'è da sapere è passata una buona serata vediamo se arturais avrà ragione speriamo di sì ovviamente buona serata amici miei e alla prossima ciao a tutti